Questa parte non veniva in calentata Chiara mi sa che quella che prenderanno perché non si muove Chiara da lì Uno c'è il fucile e l'altro la pistola la col al 3 vi girate Chiara sposta Chiara è proprio in mezzo 1 2 dovete avere schiena a schiena la schiena sanno che 1 al 3 dovete corrervi incontro è stata bella la mia introduzione spero che l'hai registrata quando un uomo con la bottiglia da mezzo litro incontro l'uomo con la bottiglia da un litro e mezzo al 3 vi rincorrete si l'ho registrata che bello è perché ci stava ragà fatela finita la bottiglia non è perché ci stava di questo come si mi piace al meglio si è fatta saltare no? Sì, ci fai lontano, non c'è un riscattolino? Dai, mangiamo ragazzi, dobbiamo andare. Pizzate l'acqua a te. Non te la provo. Dai, spera. Non so, hai tre ore in po'. Adesso, a te la f***o ancora, che f***o ancora. Non lo so. Ma quando è che è meggiore? Ma se pensa che è miaglissima. Ma vai sulla porta, vuol dire anche tu? Vai, tu. Ma anche tu? Ma anche tu? F***a i capettoni. È come al mare, tu sembra che c'è il mare. Datevi la mano dai. Da Denis Stassone è tutto, Parco del Valentino, Torino.